Oggi andremo a vedere i figli di un genitore narcisista Questa puntata è la risposta a una domanda che mi è stata fatta nei commenti riguardante i figli di genitori narcisisti diciamo la situazione nella quale ci troviamo una volta che separati dai narcisisti abbiamo avuto dei figli assieme e adesso bisogna vedere un po' come si potrebbero evolvere le cose fra i nostri figli e il genitore narcisista ma soprattutto che tipo di rapporto si potrebbe istruare sarebbe di più dalla parte del genitore narcisista oppure dall'altro genitore Questa vi ammetto che è una domanda abbastanza difficile più che altro perché non ho approfondito molto questo aspetto però siccome me lo chiedete spesso cerco comunque di informarmi il più che posso per darvi delle informazioni giuste perché comunque è una tematica estremamente delicata secondo me soprattutto quando si tratta di una madre che vede i suoi figli prendere la parte del suo aguzzino questa è una cosa che può veramente dare fastidio e ferire, ferire tantissimo perché la paura che sia è che possano un giorno fare ai figli la stessa cosa che hanno fatto alla loro compagna o compagno proprio perché i narcisisti non avendo empatia non vedono le persone come individui con dei sentimenti ai quali bisogna stare attenti con una certa intelligenza emotiva per loro qualsiasi individuo, figli inclusi, sono dei strumenti per raggiungere uno scopo ben specifico quando gli serve e quindi da questo punto di vista è più che estremamente lecito per una madre preoccuparsi tantissimo dei propri figli per non dimenticare i uomini vale anche per la figura del padre che si separa da una moglie narcisista perciò per semplificare un po' le cose andremo a vedere le due tipologie di narcisisti che ci sono per vedere che tipo di relazione si può sviluppare fra i figli e queste due figure inizierò con il genitore narcisista overt perché questo è quello che tenderà a farsi vedere per chi è più facilmente rispetto al genitore narcisista covert il genitore narcisista overt è uno che non si nasconde prendiamo il caso in cui uno dei genitori è la figura maschile il marito narcisista dal quale ci si è separati questo tipo di individuo non ci starà tanto a mostrarsi per chi è veramente tradendo ripetutamente la moglie senza neanche nasconderlo ai figli creando una situazione nella quale i figli vedono chiaramente chi è che sta facendo soffrire l'altro genitore ci ritroviamo in una situazione in cui non c'è alcuna ambiguità perché il narcisista overt non si nasconde pensa che non ci saranno conseguenze per le sue azioni ma soprattutto per quanto riguarda le persone che considera i suoi subalterni in questo caso la sua famiglia proprio non ne frega nulla di quello che penseranno di lui perché lui intanto si sarà rifatto la vita con un'altra persona da un'altra parte perché vi dico fra i casi che ho incontrato spesso nella mia vita si trattava sempre di un padre narcisista che si era lasciato con sua moglie perché le faceva le corna oppure certi casi un po' più insidiosi soprattutto per quanto riguarda i figli e quando questo tipo di genitore svolgeva due vite parallele quindi aveva la sua moglie da una parte la moglie ufficiale con i figli ufficiali e da un'altra parte c'erano altri figli con un'altra donna e la cosa che colpiva molto i figli era quando scoprivano magari in età adulta che avevano dei fratelli e sorelle di cui non erano a conoscenza quindi questi sono i casi che ho riscontrato di più durante la mia esperienza per quanto riguarda questo tipo di situazione e in questi casi non è che le moglie dei narcisisti non erano a conoscenza di questa loro doppia vita e che facevano finta di non vedere più che altro per non ferire i figli però ancora una volta quando i figli vengono a scoprire questo tipo di situazione di solito o recidono i contatti con il genitore narcisista o comunque cercano di non averlo come modello di interagirci il meno possibile laddove è possibile perché per loro quando vengono a conoscenza di questo tipo di segreto la situazione è molto chiara il papa ha fatto soffrire la mamma per tantissimi anni perché c'aveva quell'altra relazione c'aveva quell'altra famiglia in parallelo fregandosene completamente del dolore che provocava la mamma o che avrebbe provocato ai figli quando questi sarebbero venuti a conoscenza del fatto che avevano dei fratelli e delle sorelle di cui non erano a conoscenza quindi in questo tipo di caso è molto raro che i figli prendano la parte del genitore narcisista almeno in base a quello che ho visto io poi comunque ci possono essere dei casi in cui i figli malgrado questo tipo di realtà cercano lo stesso di mettere il proprio genitore su un piedistallo cercando di razionalizzare questa situazione a volte che cos'è che può succedere? in questo caso i maschi in modo da sentirsi vicino al padre o diciamo in modo da sentirsi considerati da loro iniziano ad imitarli quindi si comporteranno nella loro coppia esattamente come hanno fatto i loro genitori mettendosi a tradire a destra e manca avendo un sacco di conquiste perché pensano che così facendo il papa dirà oh ecco il mio figlio prediletto ecco quello che mi assomiglia ecco il mio degno erede tutto questo è fatto soltanto per avere quel momento di attenzione quel momento di approvazione dal genitore narcisista purtroppo quel tipo di momento trova il tempo che trova ha una gloria breve perché questo tipo di genitore narcisista come ho detto in precedenza noi ne frega assolutamente nulla dei propri figli i figli servono per arredare la propria vita servono per dimostrare il fatto che sono dei uomini potenti perché sono in grado di procreare serve per poter andare in giro a dire guardate quanti figli ho sono un uomo responsabile io vedete cose di questo tipo in questo caso tranne l'esempio in cui il figlio cercherebbe di emulare il padre per avere la sua approvazione è molto difficile che i figli prendano la parte del genitore narcisista quando si tratta di un narcisista overt di questo tipo il genitore narcisista covert invece è un'altra cosa questo è quello che in grado di far andare avanti la storia secondo la quale nella coppia è stato lui o lei a subire l'altro coniuge e quindi per i figli diventa estremamente difficile capire chi è nel giusto e chi è nel torto perché ricordiamo che i narcisisti covert sono molto bravi a nascondere le proprie tracce essendo in grado anche di incidere nella mente dei propri figli anche dopo la loro morte il fatto che loro erano le vittime le vittime dell'altro coniuge e quindi in questo tipo di situazione il genitore narcisista covert è molto bravo a far credere ai figli che è lui o lei che ha sempre avuto a cuore i loro interessi che hanno mosso mari e monti dandosi da fare per prendersi cura di loro e di fronte a questo tipo di situazione la cosa che si nota almeno parla in base a quello che ho visto l'altro coniuge lo vedete o la vedete soffrire in silenzio raramente vedete la persona cercare di ribattere perché ormai per certi versi è anche un po' rassegnata perché sa che qualsiasi cosa dirà verrà annulato dal genitore narcisista quest'ultimo si è dato da fare a fare un lavaggio del cervello proprio dalla A alla Z ai propri figli soprattutto se da qualche parte aveva presentito che questo matrimonio non sarebbe durato a lungo e quindi per salvaguardare la propria immagine e mantenere il controllo sull'altro coniuge iniziano a fare un lavaggio del cervello ai figli man mano che il tempo passa e che il genitore narcisista covert pian piano comincia a mostrarsi per chi è veramente i figli cominciano ad accorgersi dell'inganno e cominciano a capire chi è stato veramente la guzzino e chi è la vittima quando questo accade i figli possono andare a chiedere scusa al genitore al quale hanno fatto torto per tanti anni però contemporaneamente i possono anche chiedere ma tu perché non hai reagito? qua comunque dipende anche dal carattere dei figli dipende dalla profondità dell'inganno che è stato messo in testa dal genitore narcisista in questo tipo di situazione la cosa migliore da fare è di non reagire alle provocazioni del genitore narcisista perché fondamentalmente è di questo che si nutrono per poter fare le vittime quando non hanno la persona che reagisce a una certa devono inventarsene una dietro l'altra ed è questa la trappola perché pur di rimanere nel ruolo della vittima in modo da poter avere il controllo della mente dei figli sono pronti ad inventarsi delle storie che non stanno né in cielo né in terra e queste bugie si accumulano una dietro l'altra e a una certa i figli se ne accorgono cominciano ad accorgersi che no aspetta un attimo qua cominciano ad esserci un po' troppe cose che non stanno avendo né capo né coda perché il punto è questo i narcisisti hanno paura del vuoto quando dico vuoto mi riferisco al fatto che non ci sia una reazione dalla parte della persona che stanno attaccando che stanno difamando e quando vedono questo in modo da poter convincere le persone che usano come scimi volanti si mettono ad esagerare le cose in modo da essere creduti perché pensano che il fatto che l'altra persona non reagisce questo farà crollare il loro castello di carta e quindi bisogna aumentare le bugie bisogna esagerare le storie perché pensano che così facendo più la cosa è grossa e più verranno creduti quando in realtà è l'esatto opposto che succede più la dicono grossa e più si svelano per chi sono veramente questo è tutto vi ringrazio per la vostra attenzione fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata e non mi rimane altro da dirvi che ci vediamo alla prossima cambia pensando cambia pensando